Oggi 13 gennaio e Sant'Ilario, da pagano convertito, diventa alla fine vescovo di Poitiers in Francia. Siamo nel 350 d.C. Ecco cosa si dice di lui. Oggi, attraverso la meditazione delle scritture, quest'uomo, assetato di verità, scoprì la luce di Cristo, che illuminò la sua vita e quella di tutte le persone che incontrava. Oggi, nei miei occhi, brilla la luce di Cristo, perché Lui è la mia salvezza e la mia gioia. Brilla anche per le persone che incontro. E questo l'augurio che faccio a tutti quelli che portano al nome di Ilario e di Ilaria e a tutti noi. Buona giornata!